Siamo qua con un nuovo progetto. Perché il cittadino dovrebbe credere in questo progetto nuovo? Che cosa c'è di realmente nuovo? Di nuovo c'è un modo diverso di approcciarsi ai cittadini e ai territori. Per noi i territori sono la partenza e non sono il punto di arrivo della nostra politica. Oggi a Parma vedrete persone che arriveranno dai territori spontaneamente per partecipare con noi, per costruire una vera alleanza che unisce tutta l'Italia e per questo Alleanza per l'Italia. Quali sono i bisogni da voi identificati ai quali volete dare risposta? Se lei fosse dall'altra parte, perché crederebbe a questo nuovo movimento politico? Credere a un nuovo movimento politico è semplicissimo perché dobbiamo guardare qual è l'offerta politica oggi. Oggi è un'offerta politica dilaniata, un'offerta politica dove c'è un contrasto continuo e forse anche troppo duro. La gente si allontana dalla politica, noi invece vogliamo riavvicinarla e vogliamo riavvicinarla partendo dalla gente. A proposito di gente, si punta tanto sulla partecipazione. Cosa vuol dire oggi partecipare? Partecipare oggi vuol dire decidere e per noi la decisione è importante. Noi non vogliamo far partecipare la gente alle nostre decisioni, noi vogliamo che la gente insieme a noi decida, anzi ci aiuti a decidere perché solo così possiamo ritornare ad essere un partito popolare. Se ci dovesse essere una frase brevissima che riassume quelli che sono i vostri intenti politici, può pensare a qualcosa? Quale sarebbe? Siamo qui per fare. Siamo qui per fare.